ciao a tutti benvenuti in questo nostro nuovo video che dedicheremo alla presentazione del film di The Musk come vedete qua la pagina facebook non è logicamente il film di The Musk è un remake non ufficiale di The Musk diretto da Jason Garbay spero di averlo letto bene la pronuncia della Garbay Films qui potete vedere a vostra spalla la pagina facebook che troverete in descrizione metterò anche il link al canale youtube dove potete trovare trailer e varie clip noi in questo progetto stiamo realizzando alcuni degli effetti speciali questo film da quello che si può vedere sembra molto interessante per questo ne stiamo parlando e poi noi nel nostro canale youtube trattiamo per lo più The Musk quindi ci sembrava molto interessante che noi vi consigliassimo questo film bene me mi conoscete già perché vi accetto nel canale youtube mi raccomando mettete like ovviamente andate a visitare la pagina facebook di questo film lasciate dei commenti ovviamente fateci sapere che cosa ne pensate e ci vediamo presto ciao a tutti